cultura musica cibi alimentazione arte domani nel 14esimo municipio romano eventi non stop per rilanciare le periferie della capitale come più volte sottolineato dal sindaco di roma ignazio marino alla riscoperta del ruolo strategico che hanno avuto e che possono ancora avere i mercati coperti delle nostre città come quello di prima valle spazi aperti dunque laboratori dedicati al riciclo creativo per bambini accanto a corsi di uncinetto artigianato di cucina tradizionale romana in programma inoltre anche mostre concerti e musica live e libera libri libero scambio di libri romanzi raccolte di poesie un'iniziativa progettuale fortemente voluta da mattia altobelli e dal suo giovane stanzola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!